Musica Vediamo insieme i titoli del sommario del nostro telegiornale. Covid è morta un'anziana all'ospedale di Fermo. Domani il presidente della regione incontra i vertici della sanità per fare il punto sull'evoluzione della pandemia. Premi Covid ai sanitari, nessuna risposta dall'area vasta. I sindacati proclamano lo stato di agitazione del personale dipendente. Caterina Delbianco si dimette da assessore del comune di Fano. A giorni il sindaco annuncerà il sostituto e il rimpasso delle deleghe. Stangata Tari monta la polemica sulle maxibollette inviate alle aziende. La Lega Fano punta il ditro contro il comune. Il sindaco prenda una posizione e stralciare le cartelle esattoriali. Alla vigilia della festa di San Francesco il Papa torna ad Assisi per siglare la nuova enciclica Fratelli Tutti dalle 15 in diretta su Fano TV. La Santa Messa è la firma del documento sull'amicizia sociale. Taglio alle indenità di sindaco e assessori. A Mondolfo riparte il concorso di idee per suggerire un progetto di pubblica utilità. Tra poco in collegamento da Piazza del Popolo a Pesaro per la 66esima edizione della mostra dei fiori delle piante ornamentali. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con il decesso che si è verificato nelle marche legato al coronavirus. La vittima è una signora di 84 anni deceduta nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Fermo. L'anziana, residente ad Acquaviva Picena, aveva patologie pregresse ed era risultata positiva il covid-19 dopo un contatto stretto di un caso positivo in ambito domestico. Intanto i contagi sono in leggero rialzo nelle marche. Dopo i 28 positivi rilevati nella giornata di ieri, se ne registrano altri 42, la maggior parte dei quali nel sud della regione. 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in quella di Macerata, 5 nel Fermano, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in quella di Ancone, 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici, contatti in ambito domestico, rientri dall'estero Spagna e Principato di Monaco, 3 casi riscontrati in ambito lavorativo e universitario. Il numero di ricoverati in terapia intensiva è sceso da 6 a 4, ma sale quello delle persone in quarantena e degli isolati in casa per contatti con contagiati ad oggi 2.508. Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, incontrerà domani alle ore 11 a Palazzo Raffaello i vertici della sanità marchigiana per fare il punto sull'evoluzione pandemica da Covid-19. La salvaguardia della salute e la sicurezza sanitaria sono le nostre priorità che vanno costruite insieme ai cittadini, ha dichiarato il governatore. Per questo invito tutti a mantenere un atteggiamento di consapevolezza e grande prudenza in modo da affrontare i prossimi mesi nel rispetto responsabile delle misure di prevenzione. Ogni soluzione che possiamo individuare per contenere la diffusione del virus presuppone comportamenti adeguati da parte di ciascuno di noi. La prima sicurezza da adottare, ha ricordato Acquaroli, è l'uso corretto e costante delle mascherine insieme all'osservanza delle regole di distanziamento sociale. E i sindacati e le RSU dell'area vasta, uno, hanno proclamato lo stato di agitazione. Dopo l'assenza di risposte dell'azienda sui premi Covid e sugli arretrati per i dipendenti, ora parte la conciliazione di fronte al prefetto. Hanno atteso in vano una risposta dall'Azur, hanno avuto un incontro in regione ma senza risultati e ora, come annunciato, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente. Sono passati dalle parole ai fatti i sindacati di Pesero Urbino che insieme alla rappresentanza sindacale unitaria dell'area vasta uno stanno portando avanti la battaglia per il mancato pagamento dei primi Covid che spetta i dipendenti. Un riconoscimento atteso da mesi che va ad aggiungersi alla quota di produttività e agli scatti di carriera arretrati rispettivamente dal 2018 e 2019. In previsione del Covid, che già i casi all'interno della nostra provincia stanno aumentando, vorremmo dignità per i lavoratori in quanto è un atto dovuto e hanno messo il massimo impegno in questo periodo. Sono tante persone ancora preoccupate lungo le corsie degli ospedali? Assolutamente sì. C'è sia la preoccupazione dell'aumento dei casi di Covid e sia la preoccupazione in quanto non vengono riconosciuti come professionisti e debitamente ritribuiti. A questo si aggiungono i problemi legati alla carenza di personale. Mancano medici, infermieri e os ci fanno sapere. Intanto è stata richiesta la procedura di conciliazione alla Prefettura che dovrà convocare le parti interessate entro cinque giorni. Siamo arrivati a quest'azione, spiega Alessandro Contadini, dopo mesi di richieste inascoltate. Le risorse non sono sufficienti, precisa, e la ripartizione è stata calcolata sulla base dei dati storici e non sulla situazione straordinaria legata al coronavirus. La nostra provincia è stata la più colpita nelle marche. I dipendenti sono molto arrabbiati, forse la parola corretta sarebbe delusione, per non vedersi e riconoscere la loro professionalità. Professionalità che hanno sempre dimostrato, anche durante i mesi più complicati del Covid, ed è bene ricordarlo che hanno rinunciato alla propria famiglia per non portare il virus a casa. Sono stati obbligati a lavorare anche in condizioni precarie di sicurezza in termini di dispositivi, non riconoscere il loro lavoro, la loro professionalità, come invece è stato riconosciuto a colleghi della stessa provincia, mi riferisco ai dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che con la bussa paga di agosto gli è stato riconosciuto il premio Covid. Negarlo ai dipendenti dell'area vasta 1, che ricordiamo sono i dipendenti su cui è gravato il peso maggiore del Covid, perché noi siamo la provincia territorialmente che ha avuto il maggior numero di casi positivi, il maggior numero di decessi, ed è bene ricordarlo anche il maggior numero di dipendenti contagiati dal virus, probabilmente in corsia. In caso di esito negativo della procedura di fronte al prefetto, i sindacati procederanno con altre iniziative. Non escludiamo di ulteriori, diciamo così, strumenti di mobilitazione, compreso una prima giornata di sciopero. E adesso la pagina politica. Questa mattina Caterina Delbianco ha rassegnato le dimissioni da assessore del Comune di Fano. Nei prossimi giorni il sindaco Massimo Seri annuncerà chi prenderà il suo posto e quali deleghe verranno modificate all'interno della Giunta. Sentiamo. Se ne parlava da settimane, ma oggi è arrivata la conferma. Caterina Delbianco, assessora alla cultura e allo sport del Comune di Fano, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per ragioni di carattere personale. Infatti, dal 14 settembre scorso, ha iniziato ad insegnare in una scuola media della città. La decisione di lasciare la Giunta è stata formalizzata questa mattina al termine di una conferenza stampa alla Mediatica Montanari. Dopo sei anni ho iniziato intrapreso il percorso scolastico, che è una cosa per cui ho studiato, un percorso lavorativo. E direi che mi sembra giusto lasciare spazio agli assessorati importanti cultura e sport a chi ha più tempo, perché non riesco a combaciare le due attività. Quindi colgo anche l'occasione per ringraziare il sindaco, tutti i colleghi di Giunta e consiglieri per questi anni. Sono stati anni molto belli e validi di lavoro. Nulla è buttato via perché sarà un passaggio di testimone. Quindi poi si riprenderanno tutti i temi e non si lascerà nulla in sospeso. Questo ci tengo a sottolinearlo. Bocche ancora cucite su chi andrà a ricoprire questo incarico. Il primo cittadino, Massimo Seri, ha dichiarato di voler prendere alcuni giorni per riflettere prima di annunciare il rimpasto definitivo delle deleghe in Giunta, visto che potrebbe cambiarne anche delle altre. Intanto si vocifera l'ingresso della consigliera Barbara Brunori, già vicepresidente del Consiglio Comunale, che alle ultime elezioni aveva ottenuto 272 preferenze, arrivando seconda alla del Bianco nella lista civica del sindaco Noi Città. In queste ore si fa anche il nome di Renato Claudio Minardi, uno dei grandi esclusi alle ultime regionali, che potrebbe in qualche modo tornare nel Palazzo Civico di Via San Francesco. È stata una compagna di viaggio importante in questi sei anni. è stata una scelta, sei anni fa, giusta oggi, con seno di poi. Ha portato un contributo, si è fatta a benvolere, con il suo modo di fare, educato, concreto, senza arroganza. Devo dire, insomma, nel mondo dello sport è stata molto apprezzata, lo è tuttora. Adesso aveva anche intrapreso questa delega alla cultura, con fatica all'inizio, ma adesso aveva individuato alcuni percorsi che ovviamente non saranno archiviati, proseguiranno. Però ecco, mi sento di esprimere veramente un caloroso ringraziamento per la collaborazione, per il contributo che ha portato, ma anche per l'apporto umano, perché dal mio punto di vista è sempre l'aspetto che conta di più. Abbiamo quattro anni davanti, importanti, con delle grandi opportunità che si presenteranno, non possiamo farci trovare impreparati. Onestamente ci stiamo già lavorando, ci stiamo già adoperando e quindi mi prendo qualche giorno, ma saranno veramente pochi giorni. E l'ingegnere Sandro Sorbini va in pensione e saluta i colleghi dei lavori pubblici e viabilità del Comune di Fano, con i quali ha prestato servizio negli ultimi tre anni, dopo un trentennio passato in provincia. Il suo posto da dirigente verrà ricoperto pro tempore fino all'assunzione di una nuova figura dall'architetto Adriano Giangolini, dirigente dell'urbanistica che già in passato aveva ricoperto il medesimo ruolo. Ed ora torniamo a parlare delle maxibollette sulla tassa su rifiuti inviate all'industria perché oggi sull'argomento è intervenuta la Lega Fano che punta il dito contro il Comune. Ilario, in questi giorni state raccogliendo tante testimonianze su queste maxibollette, così? Sì, abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni telefonate dagli imprenditori che si sono sentiti abbandonati. Guarda caso, a pochi giorni, a poche ore dalla chiusura delle urne, vedersi recapitare multe o cartelle esattoriali, chiamiamole come volete, per l'escussione dell'Atario, del mancato pagamento dell'Atario, è veramente una cosa che non ha né capo né coda. E ci tenete a precisare il fatto che questi imprenditori non sono degli evasori? Assolutamente no. Secondo noi gli imprenditori sono dei veri e propri eroi. In un momento del genere affrontare il mercato del post-Covid è qualcosa di incredibile. E vessare i nostri imprenditori che spesso anticipano la cassa integrazione, i propri collaboratori, i propri dipendenti che altrimenti non avrebbero di cui vivere, visto che l'IMS è latitante da mesi, è qualcosa di eccezionale. E noi dobbiamo essere al loro fianco piuttosto che essere vessati da questo balzello aggiuntivo che è la riscossione dell'Atari. Ci puoi riportare alcuni esempi? Assolutamente sì. Ci sono dei casi veramente borderline. Pensate che ci sono attività che da 20 anni lavorano nello stesso identico modo di sempre, senza variazioni catastali. Ebbene, unilateralmente invece si è deciso che un'area che prima era magazzino oggi deve diventare un'area produttiva con un aumento chiaramente del costo dell'Atari. Ma se è 20 anni che un'azienda lavora in questo modo perché oggi dobbiamo per forza fare cassa facendo spendere a queste aziende anche dei soldi per poi potersi difendere nelle sedi opportune per poter impugnare queste multe. Un altro caso veramente limite borderline ne parlavo poco fa proprio con il diretto interessato un imprenditore che nel 2015 ha dovuto chiudere la propria attività e che aveva in affitto un immobile. Ebbene, si è visto recapitare una multa perché non avrebbe pagato fino al 2018 l'Atari su un immobile che non aveva più lo stesso immobile è stato subito affittato dopo la chiusura della prima ditta e sul quale tuttora viene pagata l'Atari quindi cosa facciamo? Escutiamo due volte l'Atari sullo stesso immobile e addirittura lo chiediamo a una figura giuridica che non esercita più da almeno cinque anni è una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. Che cosa ha contestato il Comune di Fano? Secondo noi l'amministrazione comunale negli ultimi periodi si sta veramente nascondendo dietro il privato a cui ha comunque dato l'incarico di esercitare il ruolo che sta esercitando senza metterci la faccia il sindaco deve prendere una posizione netta e chiara affiancare i nostri imprenditori e far sì in tutti i modi che si possa stralciare queste multe o queste cartelle esattoriali per noi gli imprenditori per noi della Lega gli imprenditori sono degli eroi. E anche il neopresidente delle Marche Francesco Acquaroli sarà ad Assisi domenica 4 ottobre per la celebrazione nazionale di San Francesco patrono d'Italia sarà Valeria Mancinelli sindaca di Ancona e presidente facente funzioni di Anci Marchi a nome dei sindaci marchigiani delle diocesi marchigiane ad offrire l'olio per la lampada di San Francesco Papa Bergoglio dovrebbe visitare la tomba del Santo in forma privata il 3 ottobre mentre alla celebrazione del 4 è prevista tra gli altri la presenza del premier Giuseppe Conte il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha emesso un'ordinanza che stabilisce l'obbligo della mascherina anche all'aperto nelle aree interessate dagli eventi in centro storico e a Santa Maria degli Angeli domenica 3 ottobre dagli ore 15 Fanotv trasmetterà in diretta la Santa Missa celebrata nella Basilica di San Francesco ad Assisi al termine della quale Papa Francesco firmerà l'enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale ed ora ci spostiamo a Mondolfo dove i cittadini potranno suggerire all'amministrazione comunale come utilizzare le risorse derivanti dalla riduzione delle indennità di sindaco e assessori Grazie al taglio delle indennità del sindaco e dei componenti della giunta di Mondolfo riparte il concorso di idee aperto a tutti i cittadini per suggerire in che modo utilizzare questo avanzo che quest'anno si aggira intorno ai 21.400 euro Quest'anno le risorse accantonate sono di 21.400 euro relative all'anno 2019 e all'anno 2020 in questi anni abbiamo accantonato circa 60.000 euro con la quale abbiamo fatto tanti progetti per la nostra città abbiamo installato nuove attrezzature sportive sul lungomare abbiamo restaurato il monumento a caduti nel centro storico di Mondolfo abbiamo dotato le nostre scuole le scuole del territorio di lavagne interattive multimediali schermi LCD pc portatili Tutti i cittadini possono partecipare inviando una mail all'indirizzo urp chiocciolacomune punto mondolfo punto più punto it entro il 31 di ottobre e descrivere le varie idee per contribuire e migliorare il territorio e i servizi nel comune di Mondolfo come amministrazione comunale per noi è un dare un esempio ognuno di noi può fare la sua parte per migliorare la propria città e l'università degli studi di Urbino Carlo Bo ha eletto il nuovo rettore al biologo Vilberto Stocchi succede l'economista Giorgio Calcagnini che per sei anni ha ricoperto il ruolo di prorettore Vicario sulla sua candidatura unitaria si sono trovate d'accordo tutte le componenti dell'Ateneo nonostante l'esito scontato della votazione la convergenza sul professor Calcagnini è stata confermata da una grande partecipazione al voto con un'affluenza complessiva del 77% tra docenti tecnici amministrativi e membri del consiglio degli studenti oltre il 91% dei votanti ha dato la sua preferenza a Calcagnini professore di economia politica ed ora passiamo alle vostre segnalazioni nel telegiornale di ieri sera l'assessore Fabio Latonelli aveva risposto ai residenti di Centinarola sul sottopasso di via Fanella l'assessore aveva spiegato che quel tratto di strada rimarrà riservato a pedoni ciclisti e scuteristi e che a breve sarebbe stato illuminato ieri sera però ci è arrivato questo video che per la gioia dei residenti e non solo mostra il sottopasso illuminato un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza e adesso ci spostiamo a Pesaro dove oggi è preso il via la 66esima mostra dei fiori delle piante ornamentali allora ci colleghiamo da Piazza del Popolo dove c'è per noi Angelica Panzieri buonasera Angelica dunque nonostante l'emergenza sanitaria il comune ha deciso di confermare questa tradizionale manifestazione sì Simona ci troviamo qui in diretta da Piazza del Popolo dove da questa mattina è in corso la festa dei fiori come vedete ci sono ancora persone che stanno acquistando tutte le regole anti-covid quest'anno sono state rispettate i visitatori prima di entrare hanno indossato la mascherina e igienizzato le mani vediamo i dettagli nel servizio che abbiamo preparato torna oggi in Piazza del Popolo la 66esima edizione della mostra dei fiori e delle piante ornamentali 22 gli espositori che quest'anno hanno preso parte alla manifestazione che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid nemmeno il coronavirus è riuscito a spezzare la tradizione anche quest'anno tantissime persone hanno partecipato alla mostra dei fiori e delle piante ornamentali organizzata dal comune di Pesaro in Piazza del Popolo da oggi fino a domenica 4 ottobre si potranno acquistare piante e fiori di ogni tipo da quelli più comuni a quelli più pregiati la tre giorni si svolgerà in piena sicurezza gli stand sono ben distanziati l'uno dall'altro e a presidiare la piazza dalle 9 e mezza alle 22 ci sono gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile per non creare assembramenti l'amministrazione comunale ha deciso di annullare per quest'anno la consueta cerimonia di inaugurazione rimane confermata invece la mostra bonsai Pesaro 88 nella sala laurana della prefettura soddisfatti i florovivaisti che già nel primo giorno di manifestazione hanno registrato un bel movimento primo giorno della festa dei fiori come è andata? bene dai la gente gira e ovviamente un po' di timore c'è però siamo tutti in sicurezza tutti i dispositivi li abbiamo già gli igienizzanti distanze lo stand è abbastanza scorrevole abbiamo le entrate le uscite quindi al momento siamo felici siamo contenti quest'anno avete creato un allestimento particolare? sì abbiamo cercato di presentare il giardino secco quindi tutte piante che anche a livello urbano quindi per giardini urbani stanno benissimo impatto zero con l'ambiente in quanto richiedono pochissima acqua si gestiscono da sole pochissima manutenzione e fanno una gran fiorita e sono bellissime anche da vedere la piantina più richiesta? allora sicuramente il ciclamino noi però puntiamo ecco a cosine un pochino più spiziose quest'anno abbiamo portato una pianta che si chiama Duranta che è bellina da vedere ha dei fiorellini viola fiorisce ed è curiosa da avere in giardino sta andando molto bene c'è un buon afflusso diciamo quindi molto bene siamo soddisfatti la pianta più richiesta? attualmente stamattina il ciclamino stiamo vendendo molti ciclamini sarete qui fino a domenica? fino a domenica facciamo un orario più prolungato fino alle 22 di sera dalle 9.30 di mattina quindi in modo che così possiamo diffruire bene il pubblico primo giorno della festa dei fiori che cosa ha comprato? rosmarino sperando che tenga che mi si secca sempre comprerà anche qualche pianta? adesso ho fatto un giro così stamattina sinceramente sono venuta solo per vedere invece alla fine ho preso il rosmarino adesso tornerò con calma andate fino a domenica giusto? dopo quando torno con calma vedo ma io c'ho un balcone non è che lo spazio da me per le piante ne vorrei tante ma il suo fiore preferito che comprerà oltre il rosmarino? non lo so quello che tiene di più sento con loro dopo tanto sono i garofani di solito non sono meravigliosi però dai almeno tengono ho comprato il ciclamino ma la mia amica ha fatto parecchia spesa l'ho trovata molto accogliente e allegra se non altro per i colori il pezzo più forte dell'anno secondo lei quello che comprerà ancora oltre al ciclamino? oltre al ciclamino oltre al ciclamino le rose ho comprato le erbe aromatiche guarda perché siccome le uso moltissimo per fare i sughi e quindi trovo eccezionale queste erbe e le uniche erbe che prendo perché io delle piante sono completamente il mio pollice verde è zero sì come avete potuto sentire già nel primo giorno di manifestazione sono arrivati diversi visitatori la fiera proseguirà poi anche domani e domenica e le bancarelle rimarranno aperte dalle 9 alle 22 da Piazza del Popolo è tutto la linea può tornare allo studio grazie Angelica per questa tua corrispondenza e noi rimaniamo a Pesaro perché la città ha vinto la medaglia la maglia rosa della decima edizione del Giretto d'Italia il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Lega Ambiente un risultato che ci rende orgogliosi ha commentato il sindaco Matteo Ricci e che dimostra ancora una volta quanto Pesaro sia città della bicicletta la città si è aggiudicata il primo posto con oltre 7500 mezzi sostenibili tra bici e monopattini seguito da Piacenza e Reggio Emilia il conteggio è avvenuto con un monitoraggio tramite appositi checkpoint allestiti nelle 25 città italiane che hanno aderito all'iniziativa nelle vicinanze delle aziende pubbliche e private delle scuole e delle università e anche questa sera facciamo gli auguri ad una coppia Domenico Zenobi e Anna Brunetti che hanno festeggiato 55 anni di matrimonio auguri da tutti i familiari dai nipoti Riccardo e Margherita che hanno commentato siete un esempio per tutti noi e auguri ovviamente anche da parte di tutto lo staff di Fano TV e vi ricordo invece che lunedì sera partirà la nuova stagione di primo cittadino l'ospite della prima puntata sarà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci potrete intervenire in diretta telefonandolo 0721 86 14 33 oppure potrete inviare un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 Dopo il telegiornale le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'inaugurazione della MOS la sala dei mosaici di Saltara a Cogli al Metauro io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata ricordandovi l'appuntamento di domani mattina con l'informazione alle ore 7 con la nostra rassegna stampa arrivederci ciao 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 a